eccoci eccoci ben ritrovati come state un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi siamo quasi 106 mila tanti ma mai abbastanza quando si parla di milan iscrivetevi al mio canale personale qui sotto vi metto il link in descrizione grazie per chi lo farà arriviamo presto a 30.000 iscritti anche lì e poi che dire seguiteci su instagram ma non solo vi aspetto tra una settimana esatta il 3 maggio la festa di milanello al fil di seregno ingresso 15 euro compressivo di consumazione di apericina quindi mangiare e bere una festa rossonera nonostante insomma un momento fuori dalla nostra community non sia fantastico prenotate perché i posti sono quasi esauriti quindi affrettatevi qui sotto c'è il numero potete mandare un messaggino e si fa in fretta questa mattina ragazzi il punto sulla panchina ora ci sono anche altre novità e grazie fatemi dire grazie perché ogni giorno insomma milanello è il canale rossonero più seguito da chi ha il milan nel cuore appunto ed è un grande orgoglio allora veniamo alle novità intanto ricordiamo che domani il milan gioca perché sta succedendo un po di tutto con la juventus alle ore 18 la racconterò in diretta se non vedete la partita a qus us se vi va e arriviamo senza teo senza calabria senza tomori situazione di vera emergenza dietro io sinceramente mi sarei aspettato terracciano più florenzi più gabbia più ciao terracciano pare non giochi dovrebbe giocare musà terzino destro questa cosa se confermata vediamo poi come si svolgerà l'ultimo allenamento la rifinitura mi dispiacerebbe un po mi dispiacerebbe perché comunque è stato preso a gennaio 20 anni poi si procura un rigore col bologna ma lì come ricordo sempre sbagliato ernazio che non chiude la palla attraversa tutta l'area dormono i difensori centrali e lui arriva ritardo tira la maglia però non è solo colpa sua non è che adesso siccome ha fatto quell'errore lì non deve più giocare mi sarei aspettato di vederlo un po di più anche nei partiti magari con risultato acquisito con l'atalanta in coppa italia è entrato bene giocando come terzino sinistro io spero che giochi lui e che musà magari giochi in mezzo al campo e altrimenti se sono moncada che l'ha preso a gennaio mi farei delle domande però anche qui un dirigente che prende un giocatore seppur giovane a gennaio e vede che non gioca poi deve dire ma come mai non gioca deve pretendere magari che giochi un po di più soprattutto quando mancano tutti per me terracciano sarà un giocatore utile se lo utilizzeremo bene se lo faremo crescere e l'altra notizia che dovrebbe star fuori ancora una volta ciucquezze vediamo su questo magari c'è qualche dubbio in più però perseverare umano anzi scusate sbagliare umano perseverare è diabolico vediamo un po ciucquezze in questo momento forse l'uomo più in forma del milan là davanti poi vero che pulisi ci fai fatica a lasciarlo fuori questo è vero questo è vero però magari insomma anche ciucquezze merita la sua chance dall'inizio vediamo un po che cosa succede sarebbero due esclusioni comunque rumorose per quanto mi riguarda dal mio punto di vista non so dal vostro tra poco vediamo un aggiornamento sulla panchina siamo arrivati al 26 aprile metà giornata vediamo un po quando ci sarà questa benedetta scelta con un braccio di ferro come vi raccontavo tra ibra e furlani del quale adesso parliamo vi do anche un ulteriore dettaglio sulla panchina sul prossimo allenatore per oggi questa mattina siamo svegliati tutti con una notizia della quale avremmo fatto volentieri a meno sul tema scottante perché fastidioso che ha creato da anni cioè quello dell'inchiesta sulla vendita del milan notizie che arrivano evidentemente dalla procura e si parla di questa talpa del milan che di fatto ha fatto un assist alla procura c'è anche qui dico ragazzi mi sembra che siamo strutturati siamo organizzati proprio nell'esatto opposto di quella che dovrebbe essere invece una struttura societaria forte e adesso c'è un caso clamoroso ripeto un caso clamoroso sapete che insomma c'è questa indagine in pratica oggi emerge grazie al corsera chi sarebbe questa talpa dentro al milan talpa si intende chi è dentro al milan e fa uscire cose che non fanno bene al milan in questo caso queste cose le avrebbe fatte uscire alla procura stessa il la talpa sarebbe il direttore amministrativo del milan savi l'uomo che ha dato la guardia di finanza un'interpretazione che mette in discussione la reale proprietà del club quindi lui sentito da guardia di finanza invece di dire non c'è nulla tutto tranquillo tutto chiaro dice effettivamente c'è qualcosa di strano uno che lavora nel milan che ha un ruolo importantissimo quello di direttore amministrativo è l'oggetto dell'inchiesta della procura di milano su redbird ed elliot che secondo l'ipotesi su cui lavorano i magistrati avallata dalle impressioni di savi continua mantenere una forte influenza sulla società attraverso la presenza di diversi uomini legati al precedente fondo il concetto ancora sulla forte influenza di elliot sul milan del quale parliamo adesso anche in chiave allenatore nel dettaglio però il fatto è incredibile e invece di fare esaurire l'inchiesta da ulteriore benzina questa inchiesta andiamo subito a leggere alcuni passaggi fondamentali di questo pezzo e poi c'è un altro dato curioso che io dico ma come si fa al minan una cosa del genere essere al minan società se ti ha portato qualcuno che sta attaccando al minan ora ne parliamo di fatto però ripeto è una novità della quale avremmo fatto tutti volentieri a meno allora l'uomo dei conti testimonia la forte influenza di elliot quindi invece di dire poi io dico anche dovessero beccarti con le mani da marmellata tu devi negare l'evidenza qui non ci sono mani da marmellata sembra un'inchiesta di caccia alle streghe ma un uomo che lavora per il minan l'uomo dei conti dice e ammette che pare esserci qualcosa di strano e questa forte influenza ancora di elliot ok nel dettaglio poi che cosa che cosa viene sostenuto da questo uomo qui intanto c'è ancora il sospetto che venga il tutto da un veicolo societario non riferibile a redbird un fondo collecato collocato in olanda sia un documento interno al milan che non si capiva come fosse finito in mani della guardia di finanza qualcuno l'ha dato una presentazione dell'attuale assetto preparato dall'erigenza del milan per i colloqui a fine 2023 con investitori del mondo arabo dei quali abbiamo parlato il cui schema faceva pensare gli inquirenti che il vendor loan cioè il controverso prestito fatto nel 2022 dal venditore elliot al compratore redbird tutto oggi garantisca elliot la proprietà di parte del milan adesso si scopre che questo documento era una bozza inviata da una manager del fondo redbird elizabeth owen al direttore amministrativo del milan aldo savi e che è stato appunto savi convocato come test degli inquirenti a dare un'interpretazione problematica sulla reale proprietà dei rossoneri una circostanza destinata a imbarazzare sia il milan e redbird e elliot direttamente però via ragioni sia però indirettamente anche i loro acermi avversari del fondo blue sky salvatore cerchione e già luca davanzo che come sapete sono in continua causa con il milan no se infatti nel milan ci sono tuttora dirigenti vicini a elliot furlani e scaroni ad esempio su tutti savi colui che adesso pare essere la talpa chiamata così era invece entrato nel milan nel 2018 come consulente del fondo blue sky e oggi è diventato direttore amministrativo del milan braccio destro del direttore finanziario stefano cocirio e del direttore commerciale roberto masi che questo savi interpretato la guarda di finanza sulla bozza per il tour arabo l'ha definita strana perché a suo viso prospettava i potenziali acquirenti arabi non l'eventuale cessione di azione del milan detenute da red bird ma la cessione di un pezzo del debito di red bird verso elliot senza che in apparenza in apparenza fosse interpellato elliot in più savi ha riportato agli inquirenti la forte impressione che sulla gestione quotidiana del milan pesi ancora la forte influenza di elliot attraverso non solo ex uomini elliot come scurra scaroni furlani cocirio ma anche con il capo dell'area sportiva almsad per savi strettissimo collaboratore di gordon singer e la portavoce di elliot in italia marcella verini oggi anche di red bird l'ulteriore cosa assurda è che un uomo portato come consulente da blue sky che sta facendo la guerra al milan sia ancora al milan e guarda caso ne diventa poi la talpa talpa tra virgolette lo trovo sinceramente assurdo e domanda in questa inchiesta sentito da guarda di finanza savi ha fatto il bene o il male del milan chiaramente il male ok sulle impressioni sensazioni si può anche non entrare nel dettaglio no cioè non è una notizia che ti chiedono questo è bianco e nero tu devi dire o è bianco o nero se ti dicono le impressioni impressioni puoi anche chiamarti fuori ecco detto in maniera semplice sincera schietta e onesta o non onesta dipende dai punti di vista però ecco capite che nel milan c'è l'uomo di blue sky e ci sono gli uomini di elliot e poi c'è red bird è un pastrocchio le società forti non funzionano così e questa cosa qui è inquietante un uomino invece di dire tutto a posto dice effettivamente forte influenza questa cosa è strana siamo a a quello che è inverosimile diventa realtà invece è assurdo e di fatto secondo me questo non fa che dare ulteriore benzina spago energia a chi sta facendo queste indagini sul milan detto questo questa influenza però io lo posso dire non ho voci in capitolo non sono sentito come test io la noto ad esempio sul tema panchina milan perché sul tema panchina milan cardinale ci dice quando sembra in procinto di entrare un gruppo arabo nel milan ibra decide su tutti a casa milan quindi anche furlani anche su furlani c'è l'indagine viene meno al momento l'investitore arabo furlani torna in sella e furlani torna in sella in quanto uomo eliot che evidentemente ancora nel milan ok dopodiché non ho capito una cosa e mi rivolgo magari ai più esperti di voi se io vendo al gruppo arabo non delle quote ma una parte di debito qual è il problema che non viene interpellato eliot è una cosa che io faccio direttamente con chi compra una parte di debito ma poi quella parte è esaurita quindi questa cosa qui sinceramente non mi torna ma non sono un esperto del settore qualcuno di voi magari mi illuminerà detto questo ecco il no di furlani a conte mi sembra un no con peso specifico importante e ripeto furlani è emanazione di eliot ok anche qui il fatto che chi fa la comunicazione di red bird sia chi fa la comunicazione di eliot non è una cosa normale altro aspetto che aggiungo cioè non è una cosa vietata però è singolare quantomeno un altro aspetto che aggiungo è caro furlani se vuoi smentire l'influenza di eliot sul milan chiamati fuori sulla scelta allenatore e fai prendere conte su questo credo che saremo tutti d'accordo un altro aspetto sembra che furlani sia stato ascoltato in figici e abbia ribadito al procuratore chi ne è il 99,8 per cento di del minan è di red bird nessuna discrepanza tra quanto dichiarato in italia e quanto alla sec questo organismo di vicinanza sui conti del degli stati uniti e non c'è non c'è nessun socio occulto ovvio che avrebbe detto questo non è così scontato visto quello che ha detto invece la talpa capitolo allenatore sperando che furlani si faccia da parte sulla scelta dell'allenatore e che non ci sia più ostracismo nei confronti di antonio conte stiamo piano 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 togliendo dei pezzi con sei savo ha rinnovato ufficialmente e abbiamo tolto poi aiutatemi lopeteghi non ancora definitivamente perché in trattativa con il west emma non ancora firmato abbiamo tolto xavi che rinnova con il barcellona attenzione perché il marsiglia è in trattativa con fonseca che si era proposto al milan trattativa non significa che l'ho preso però cerca di chiuderlo per la prossima stagione quindi un attore da marsiglia non un attore da milan questo anche ci fa capire come certi nomi siano davvero molto mediocre se sei al milan se tratta significa che il milan probabilmente gli ha detto no guarda puoi andare come sospettavamo ma anche qui non lo togliamo definitivamente è un aggeronamento importante che però ecco va considerato perché tratta con il marsiglia così come lopeteghi la tratta con il west emma è chiaro che se poi li chiamo al milan dicono grazie no vado al milan però potrebbero essere segnali positivi per chi non vuole allenatori mediocri al milan alzi la mano chi non vuole allenatori mediocri lascia anche un bel like ditemi che pensate di tutto mi raccomando iscrivetevi numerosi lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale personale e vi aspetto al 3 maggio venerdì di settimana prossima al filo ora vi rimando al video di questa mattina molto importante ci vediamo più tardi guardate però il video che tra poco pubblicherò anche sul mio canale personale qui sotto c'è il link iscrivetevi mi raccomando e attivate la campanella un abbraccio e a dopo